Mi passa per la mente cosa starà pensando adesso Forse a qualcosa in cui anche lui non ha avuto successo Ecco perché quando suona viene gli occhi chiusi Ecco perché quando parla fa discorsi astrosi Ecco perché non risponde sulla sua vita privata Forse perché la sua vita è molto malata Ferma la musica, non mi va di ballare Ci sono cose di cui non si può mica parlare Persona pubblica, sola come un vecchio Armonia impossibile, non basta avere orecchio In fondo i nostri problemi sono sempre i più gravi E' normale ma questa massima non ti aiuta se ti fai male Ecco perché per la strada sembra distaccato Sembra che stia ascoltando Tiene vicino al suo letto Sempre una sedia vuota Tiene vicino al suo letto Sempre una sedia vuota Tiene vicino al suo letto Tiene vicino al suo letto